Ciao a tutti amici di Techmania, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video velocissimo, giusto per spiegarvi come preordinare il nuovo iPhone X giorno 27 alle ore 9 e 1 minuto ragazzi. Quindi questa è l'ora X, in tutti i sensi, per ordinare il nuovo iPhone. Come saprete ci sono delle scorte limitate, almeno così dicono i rumors, quindi il tempismo è la cosa fondamentale in questi casi. Vi do questi consigli, sono un po' controproducenti, potreste levarmi il mio iPhone anche a me, però vi do questo consiglio perché è giusto così per permettervi di ordinare anche a voi il vostro iPhone X e riceverlo giorno 3, che è il giorno del day 1, il 3 novembre. Quindi ragazzi direi di cominciare un video velocissimo, giusto qualche consiglio per permettervi appunto di acquistare il vostro iPhone. Iniziamo! Ok, allora ragazzi, intanto per prima cosa andiamo sul sito di Apple, già da adesso potete farlo. Reghiamoci su iPhone X, poi su modelli e prezzi, così potete scegliere già il vostro iPhone, con il modello, cioè il colore e la memoria, il taglio di memoria. Vi accedete a tutto il procedimento anche se l'avevo già fatto. Io per il momento, e attenzione ancora sono indeciso, ma per il momento prendo il grigio siderale. 64, ok, ecco qui, una volta fatto, scelto, vedete qua vi da tutte le info, se volete aggiungere polcare, eccetera, e qui c'è in basso a destra, vedete, un cuore. Dovete cliccarci giù, qui, dovete cliccarci e sarà aggiunto automaticamente il vostro, diciamo, la vostra scelta nei preferiti. Ovviamente ragazzi dovete essere loggati sul sito o sull'app col vostro ID Apple e andando nel menu in alto, nella borsa, come vedete ci sono già loggato, andate su preferiti, che già ci segna 1, e abbiamo già il nostro iPhone bello che pronto da ordinare il giorno 27 alle ore 9.01. Vedete, vi basterà entrare qui, e poi qui apparirà ovviamente il pulsante per procedere all'acquisto. Come vedete qua, al momento dice ritiro l'Apple Store non disponibile momentaneamente, perché ovviamente ancora non sono aperti i preordini. Quindi questa è una fase essenziale per riuscire a ordinare in tempo il vostro iPhone, dopodiché passiamo all'altra opzione, cioè questa è una cosa da fare prima, poi il giorno, all'ora stabilita alle 9.01. il 27 ottobre, chi è un utente già iOS può scaricare l'app Apple Store, attenzione, Apple Store non App Store, che è l'app per scaricare le app appunto, lo store di Apple. C'è dentro App Store l'app chiamata Apple Store. Scaricate questa, ed è praticamente un'app che vi permette di fare gli acquisti sul store online di Apple. Siccome il giorno 27 il sito sarà preso d'assalto, potrebbero verificarsi rallentamenti e quindi è molto preferibile utilizzare l'app. Quindi scaricatevi e installate l'app sul vostro iPhone, iPad, insomma iPod Touch, quello che è. e anche sull'app, una volta effettuato l'accesso con l'ID Apple, avrete la voce preferiti, con il vostro iPhone già bello che pronto da ordinare. Altro consiglio ragazzi, se avete una carta associata al vostro ID Apple dove non avete soldi, e comunque non quella che userete per acquistare, prima mettete la carta giusta dove avete i soldi. sennò poi al momento dell'acquisto vi chiedete la carta e perderete ulteriore tempo prezioso. Vi consiglio certamente anche se avete l'app di tenere aperto anche il sito sul Mac o comunque su un computer, in modo che se dovessero verificarsi dei problemi con l'app avete anche la seconda scelta del sito. Ok ragazzi, questi erano quei piccoli consigli che vi devo dare per permettervi di acquistare subito iPhone X. Ovviamente il video è rivolto solo a chi è interessato ad avere iPhone X quindi non iniziare con i commenti ah ma a me non mi interessa, di qua di là, evitate. Quindi, spero che vi sarà utile questo video giorno 27 e per il momento vi do appuntamento al prossimo video. Come sempre vi invito ad iscrivervi, a lasciare un like e a condividere il video se vi va e vi prometto che nei prossimi giorni porterò la recensione di iPhone 8 Plus che si è prolungata, la dovevo pubblicare un po' prima però vi prometto che uscirà il prima possibile e poi ovviamente porterò iPhone X quindi restate connessi, ciao!